Continuare l'ascesa perissare di nuovo stabilmente in alto il proprio vessillo contro chi però vuole impedirlo per non ammainare il suo e cedere il posto all'avversario. È questo il senso del big match tra Nuova Florida e Avezzano alle soglie della zona playoff dal Marco Mazzucchi di Ardia, decima giornata del girone F di Serie D. Un saluto ed un buon pomeriggio amici di Sport in Oro da Francesco Mafera e Marco Daguanno. Mario Piccardi che ha il fischietto in bocca e inizia la partita. Break da parte di Carrotta che porta palla a larga per Sissé all'altezza del lato corto. Sissé calcia sul primo palo ma strozza troppo il destro. Può strappare il 23, ancora Calombo entra in area all'altezza del lato corto, mette dentro per il back tower. Il pallone scorre fino a Moretti che può calciare con il destro. Il lancio per Sissé che scappa via all'avversario. Ancora Sissé in area, calcia e segna il gol del vantaggio dell'Avezzano. Grande giocata del 7 che ha spedito il pallone alle spalle di Giordani con il destro a girare. Vantaggio Avezzano al Mazzucchi 1-0. Il calcio d'avvio della ripresa. Ecco qui l'inizio del secondo tempo. Bakhtawi al limite si allarga. La spazio per calciare va col destro. Attenzione da quel lato, dal solito Sissé che si incunea, prova il destro a girare. Trova un gol eccezionale con il destro come nel primo tempo. Stessa soluzione del 41esimo minuto. Fa 2-0 per l'Avezzano, il 7 della formazione abruzzese che segna la sua doppietta. Attenzione, è buono il pallone per Capparella. Capparella ha messo giù ed è calcio di rigore per il Nuova Florida. Ma forse c'era un offside proprio di Capparella sul tocco arretrato. Seppur involontario del difensore dell'Avezzano, signor Picardi che va a colloquio con il suo assistente. Anzi no, perché alza il braccio il signor Picardi. E quindi decisione cambiata. Qui allora Sicurella per questo calcio di punizione. Battuto in area, colpo di testa! Ancora Bitaille, destro del 17. Giordani si allunga. Lancio per Dos Santos, è tutto regolare. Dos Santos di fronte a Giordani, arriva anche Bitaille. Dos Santos dentro per Bitaille che appoggia. Facile, facile, in rete il gol del 3-0 che manda i titoli di coda di questo match. 3-0 per l'Avezzano al Mazzucchi. Finisce in trionfo per gli abruzzesi. Poi ancora Mio, il pallone al centro. Non arriva Capparella. Esce ancora l'Avezzano. E qui arriva. Il triplice fischio che manda le due squadre negli spogliatoi. Vince l'Avezzano 3-0 che torna alla vittoria dopo tre turni. Cade invece in casa dopo tre vittorie consecutive il Nuova Florida che vede interrompersi la sua striscia positiva di cinque risultati. Per il momento dal Mazzucchi di Ardi è tutto. Un saluto da Francesco Mafera e Marco Daguanno.